Oggi parleremo di come installare una distribuzione Linux sul proprio computer e faremo direttamente la prova installandone una noi. La distribuzione che abbiamo scelto è una distribuzione molto semplice da usare, molto semplice da installare e soprattutto come sempre nel mondo Linux disponibile gratuitamente per il download. La distribuzione si chiama Linux Lite, si può scaricare da questo sito e soprattutto è disponibile per il download per macchine anche molto dadate. Il fatto che si chiami Lite, che significa proprio leggero, sta a significare che può essere installata su processori abbastanza vecchi, 700 MHz di processore, si tratta di un processore di alcuni, di diversi anni fa, una RAM minima di appena 512 MB ed almeno un DVD per poter essere installata, in quanto la distribuzione viene rilasciata con un'immagine ISO di poco più di 700 MB che non riescono ad essere contenuti su un normale CD. Quindi bisogna realizzare per forza di cose un DVD. Per poterla installare scarichiamo immediatamente l'immagine ISO da questa pagina mediante una delle varie opzioni che sono a corredo. Un piccolo sguardo adesso a come procederemo per l'installazione di questa versione di Linux. Predisponiamo prima di tutto una macchina virtuale. Una macchina virtuale è un accorgimento che possiamo utilizzare per provare e installare qualsiasi distribuzione o qualsiasi sistema operativo sul nostro computer. La macchina virtuale non è una macchina reale ma è una macchina totalmente simulata sul nostro hardware. Per l'occasione utilizzeremo proprio VirtualBox che è disponibile gratuitamente e si può scaricare sempre da internet. Con VirtualBox passiamo immediatamente all'installazione, alla creazione di una macchina virtuale. Quindi faremo semplicemente nuova. Sceglieremo il nome da dare a questa macchina virtuale, la chiameremo Linux Lite di prova. Ovviamente andremo ad identificare il tipo di sistema operativo che è un sistema Linux. Siccome Linux Lite è basata poi su una architettura su Ubuntu, su un'altra distribuzione, sceglieremo un'architettura consona, una distribuzione consona Ubuntu a 64 bit. Ovviamente se uno ha una macchina più vecchia può installare la 32 bit. Andiamo avanti. Il minimo richiesto è 512 MB di RAM. Per agevolare e per accelerare l'installazione ne installeremo un pochettino di più. 1024 sono più che sufficienti. Andiamo avanti. Creiamo un disco fisso virtuale, quindi sceglieremo il tasto Crea. Le impostazioni di default in questo caso vanno più che bene. Andiamo avanti. Scegliamo dimensione fissa, quindi non allocato dinamicamente ma prendiamo direttamente dal nostro disco tutto lo spazio che ci serve. Chiameremo il file esattamente come la nostra macchina di prova che abbiamo creato e le impostazioni predefinite 8 GB vanno bene. L'installazione totale richiede appena 4 GB per cui in questo caso siamo più del doppio dello spazio necessario. Creiamo il nostro disco e nel giro di qualche secondo dovremmo avere disponibile il disco per la nostra installazione virtuale. Quindi, riepilogando, abbiamo installato, abbiamo creato una macchina virtuale, installato un disco virtuale su questa Linux Lite di prova. Abbiamo scelto un disco da 8 GB che conterrà quello che installeremo dall'immagine ISO che abbiamo scaricato qualche minuto fa e adesso siamo all'editing delle impostazioni di questa macchina virtuale andando ad inserire nell'archiviazione nel CD che in questo caso è vuoto il CD che utilizzeremo per l'installazione che abbiamo scaricato, che in questo caso si chiama Linux Lite 64 bit ISO. Quindi abbiamo inserito nel lettore virtuale un disco che è quello che abbiamo scaricato da internet. Possiamo anche confermare con OK. Prima però andiamo sullo schermo e abilitiamo l'accelerazione, verifichiamo che il sistema abbia preso le informazioni che ci servono, togliamo il floppy che in questo caso non serve come ordine di avvio e confermiamo immediatamente le impostazioni che abbiamo dato a questa macchina virtuale. A questo punto possiamo avviare la macchina virtuale premendo il tasto avvia e avremo immediatamente la partenza di questo BIOS virtuale che permetterà l'avvio del nostro sistema operativo in modalità live. Ricordo una distribuzione Linux si attiva in modalità live nel momento in cui è possibile avviarla dal CD senza bisogno di installarla sul proprio computer. Quindi questa distribuzione tra l'altro può essere attivata come live, quindi permette esattamente la prova, può essere testata in modo da verificare se le sue potenzialità sono di nostro gradimento e solo in un secondo momento si può decidere di installarla. Fino a quando non verrà installata il disco rigido nel nostro computer non sarà toccato per cui sarà possibile in qualsiasi momento estrarre il CD, in questo caso il DVD, e ritornare alla vecchia versione del nostro sistema operativo. Lasciamolo quindi partire per avere, dopo qualche secondo, disponibile la nostra macchina virtuale in modalità live. Vi ricordo la macchina è stata settata con appena 1024 MB di RAM, quindi veramente molto pochi, è stata settata con un disco da 8 GB che sono più che sufficienti per contenere tutto il software necessario che è quello che prenderemo dal DVD che abbiamo inserito virtualmente e che potremo anche scaricare da internet per poter aggiornare il sistema ed installare del nuovo software. Benissimo, la nostra distribuzione si è appena adesso avviata, ci ricorda di mantenere i nostri file al sicuro andando a fare un backup, lo chiudiamo, per il momento non ci serve. Come si vede il desktop è molto molto pulito, è molto tra l'altro simile a tutto quello che siamo abituati a vedere su altri sistemi operativi. Abbiamo il classico menu di avvio che è identificato dal logo della distribuzione che è proprio una piuma proprio a significare la leggerezza della distribuzione per essere utilizzata, adatta quindi ad essere utilizzata su vecchi computer e in più tutto il software che è disponibile su questa distribuzione live che tra l'altro è perfettamente funzionante senza nessun bisogno di essere installata. Per avviare la nostra installazione, visto che il nostro scopo è proprio quello, andiamo a fare doppio clic sull'icona install che è disponibile sul nostro desktop. Quindi facendo doppio clic verifichiamo che in questa barra degli strumenti il nostro sistema operativo virtuale sta leggendo dal disco virtuale che abbiamo inserito e a questo punto comincia la vera e propria installazione. Installazione che è molto molto rapida. Si può effettuare in appena sette passi, identificati da questi quadratini colorati, con pochissime domande a cui dobbiamo rispondere. La prima, obbligatoria, è quella di scegliere il linguaggio che a noi più interessa. Quindi appena scegliamo italiano immediatamente la nostra installazione cambierà lingua per adeguarsi alle nostre scelte. Passeremo quindi alla seconda fase dove sono effettuate delle verifiche per essere certi che il sistema possa essere installato su questo computer. Infatti viene testato che si abbiano almeno 5 gigabyte e 7 di spazio libero, che comunque non saranno utilizzati tutti per il software, che sia collegato ovviamente alla corrente elettrica, che sia connesso ad internet per lo scaricamento di eventuale software. Si può anche scegliere se scaricare immediatamente gli aggiornamenti durante l'installazione o se installare software di terze parti, che nel nostro caso sono i plugin di MP3. Non scegliamo nulla in questa pagina, andiamo semplicemente a cliccare avanti. Come vedete si avanza già di alcuni quadratini, si sta riempiendo lo spazio a disposizione e arriveremo presto alla fine. La scelta in questo caso è molto importante soprattutto se il computer è un computer condiviso con altri sistemi operativi. Infatti noi potremmo decidere di cancellare tutto il disco. In questo caso faremo proprio così, perché noi abbiamo scelto un disco vuoto, abbiamo messo un disco virtuale vuoto, l'abbiamo creato pochi minuti fa. Oppure possiamo scegliere se cifrare l'installazione. Significa che i dati della nostra installazione saranno cifrati e illegibili se qualcuno ha a disposizione il nostro disco rigido. Possiamo utilizzare LVM, che significa dare la possibilità di utilizzare dei dischi estensibili se abbiamo delle macchine di questo tipo, cioè estendere dei dischi aggiungendo nuovo spazio, quindi avendo sempre più spazio a disposizione. Oppure è possibile ridimensionare, quindi ripartizionare il disco. Non ci interessa tutto questo, semplicemente scegliamo in questo caso la prima opzione e scegliamo la voce installa. Andando a scegliere installa, la procedura di installazione comincerà da questo momento chiedendoci alcune informazioni più specifiche. L'informazione più specifica è quella di indicare il nostro fuso orario, che tra l'altro è già predefinito, per cui è già identificata a Roma, quindi in questa videata non facciamo altro che cliccare nuovamente avanti. Avanzeremo di un altro quadratino e dopo qualche secondo dovremo avere a disposizione l'altra richiesta molto importante, quella di decidere la tastiera. Sceglieremo ovviamente la tastiera italiana con la prima tipologia, quindi italiana e italiana. E clicchiamo ancora avanti. Come vedete l'installazione procede veramente spedita, l'ultima videata è quella che ci farà più domande, perché dovremmo decidere l'utente che utilizzeremo, nel nostro caso va benissimo anche Linux Lite, visto che è una prova che stiamo effettuando, e poi dobbiamo scegliere una password che dovrebbe essere abbastanza difficile, nel nostro caso ne scegliamo una facile che è Pippo123, giusto per verificare e poter accedere. La cosa importante dei sistemi Linux è che la password è assolutamente indispensabile e bisognerà agire sempre come utente e mai come amministratore. A questo punto potrei anche scegliere di accedere automaticamente alla distribuzione Linux che sto installando, ma sceglierò meglio di richiedere la password personale per accedere. A questo punto clicco avanti, come vedete i passi per l'installazione sono ormai completi, siamo giunti alla fine e non ci resta altro che attendere che l'installazione sia effettivamente completata sul nostro disco. Bene, dopo qualche minuto, pochissimi in realtà, l'installazione è terminata, per cui viene a comparire sullo schermo questo messaggio che ci informa proprio che l'installazione è terminata e che è possibile continuare a provare la nostra distribuzione in modalità live piuttosto che riavviare il sistema. Ovviamente noi sceglieremo riavvia ora per poter avere direttamente accesso al nostro desktop. Ovviamente il riavvio richiederà pochissimo e subito dopo potremmo vedere il desktop della distribuzione che abbiamo installato sul nostro computer. Dopo qualche minuto l'installazione è completata e la macchina si è riavviata. In questo caso noi abbiamo il nostro desktop, abbiamo scelto in fase di installazione che venisse richiesta la password, per cui inseriamo la nostra password e accediamo al sistema che abbiamo appena installato. La macchina parte in pochissimi secondi, come vedete, abbiamo immediatamente questo schermo che ci dà il benvenuto, possiamo anche scegliere di non farlo più vedere all'avvio e abbiamo il nostro desktop esattamente come quello che abbiamo visto nella versione live, però privo dell'icona install che era presente in alto sulla sinistra nello schermo. Visto che è stato installato, diventa inutile. Inoltre, da quello che vediamo, l'attività non avviene più dal disco CD virtuale, ma avviene dal disco rigido della nostra macchina virtuale. Quindi effettivamente i dati vengono letti dal disco rigido. Il menu è esattamente uguale a quello che abbiamo visto in precedenza sulla live, però è tutto in inglese. Tra poco vedremo come personalizzare e far uscire tutte le voci in italiano. Ora che la nostra distribuzione è installata, che Linux Lite è installata sulla nostra macchina virtuale, personalizziamo il menu in modo che le sue voci compaiano nella lingua che abbiamo scelto, cioè l'italiano. Siccome il sistema è nuovo e ipotizziamo di non sapere dove andare, semplicemente scriviamo lang, come language, sulla nostra ricerca rapida. Otterremo immediatamente la prima voce, che è il language support, con cui potremmo personalizzare la nostra videata. Dopo qualche secondo, in cui ci dirà che non ci sono informazioni sul linguaggio, semplicemente avremo a disposizione le lingue in cui il sistema operativo è disponibile, che sono inglese e alla fine italiano. Per fare in modo che tutto sia trasformato in italiano, portiamo la nostra lingua in testa a tutte le altre. Ovviamente dobbiamo modificare anche i formati regionali, che sono quelli che identificano la moneta e altre caratteristiche del nostro sistema. E anche qua sceglieremo italiano. L'altra voce da cliccare è Apply Systemwide, cioè applica per tutto il sistema. Verrà richiesta la password. Metteremo la password di accesso, che è quella che permetterà anche di effettuare tutte le modifiche al nostro sistema. A questo punto il sistema è stato trasformato in italiano, dobbiamo semplicemente riavviare la parte grafica. Quindi sceglieremo l'uscita e faremo semplicemente un logout per poi riaccedere con la nostra password. Quindi accediamo di nuovo al sistema e dopo aver inserito la password dovremo vedere le voci di menu trasformate in italiano. Vediamo se è vero. Ecco qua. Quindi per trasformare il sistema Linux Lite da inglese, che è la sua opzione di lingua di default, in italiano è stato sufficiente un'operazione molto molto semplice. Ma un sistema, anche se in italiano, è nulla se non è stato aggiornato. Gli aggiornamenti sono necessari non contro i virus, perché sotto Linux non esiste questo problema, o perlomeno esiste ma è in portata molto molto più limitata rispetto ad altri sistemi operativi, ma è necessario aggiornare il sistema per avere nuove features piuttosto che correzioni di bug, piuttosto che nuove misure di sicurezza. Quindi miglioramento del software dal punto di vista della sicurezza. Ripeto, rifacciamo il nostro accesso al menu. Siccome non sappiamo qual è la voce per aggiornare il sistema, semplicemente scriviamo AGG che sta per aggiornamento in italiano nella nostra barra di ricerca veloce. La prima voce che viene selezionata è proprio quella di installare e rimuovere software. Ovviamente è un'operazione che solo gli amministratori possono fare e quindi verrà richiesto nuovamente l'autenticazione mediante password. A questo punto la prima cosa da fare è aggiornare la lista dei pacchetti, quindi avvieremo lo scaricamento dei vari pacchetti software in modo da avere un indice diciamo più completo possibile dei pacchetti software che si possono aggiornare. Questa distribuzione è basata su Linux Ubuntu che a sua volta è basato su Debian e può contare sulla bellezza di 45.000 pacchetti software grosso modo che possono essere tutti installati con un semplice click. Per poterli conoscere è necessario proprio scaricare gli indici che sono quello che stiamo scaricando con questa operazione. L'operazione a seconda della velocità della rete richiederà qualche minuto quindi al termine di questa operazione avremmo esattamente la lista dei pacchetti aggiornati e che è possibile installare sul nostro sistema. Bene, dopo aver scaricato tutti i pacchetti disponibili abbiamo una visione più completa del software sia installato sia disponibile infatti in tutti abbiamo tutto il software disponibile per la nostra distribuzione mentre in installato abbiamo una videata un po' diversa che ci riporta l'ultima versione disponibile e l'ultima versione installata. Per aggiornare è sufficiente selezionare gli aggiornamenti e immediatamente con seleziona avremo la possibilità di effettuare un aggiornamento radicale del nostro sistema. Quindi avete visto ho fatto aggiorna, successivamente ho cliccato applica, mi ha dato una serie di file che saranno aggiornati e altri file che dovranno essere installati. Cliccando nuovamente Apply sarà avviato il download di tutti gli aggiornamenti dai vari siti disponibili e ovviamente l'operazione può essere anche abbastanza lunga perché dipende dalla velocità della nostra linea al termine di questa operazione avremo un sistema aggiornato all'ultimo pacchetto disponibile all'ultima versione disponibile e perfettamente sicuro o perlomeno perfettamente al sicuro dai bug più noti sia di sicurezza sia di funzionamento del sistema operativo Linux Lite operazione che come avete visto si esegue in pochissimi click. Giunti a questo punto abbiamo la nostra installazione completamente aggiornata è un'operazione che si può eseguire quando lo si ritiene più opportuno è un'operazione purtroppo spesso molto lunga specialmente quando si è installato appena adesso il sistema operativo e quindi è necessario un po' attendere che tutti i pacchetti vengano scaricati però sempre dalla stessa interfaccia adesso possiamo verificare che tutti i pacchetti della nostra distribuzione siano aggiornati con le ultime release disponibili. Perché si usa un computer? Normalmente un computer viene utilizzato per fare delle semplici operazioni per fare delle connessioni in internet quindi navigare, scaricare la posta elettronica creare dei documenti e fare dei calcoli mediante uno spreadsheet, cioè un foglio di calcolo tutte queste operazioni sono già disponibili sulla nostra distribuzione quindi sotto ufficio abbiamo la possibilità di creare dei nuovi documenti sotto internet abbiamo a disposizione i nostri browser ma soprattutto possiamo anche attivarli perché sono già pronti per essere utilizzati quindi aprendo LibreOffice abbiamo immediatamente accesso all'interfaccia classica canonica per la realizzazione di un documento quindi si può scrivere immediatamente qualsiasi cosa noterete che il menu in questo caso è in inglese perché effettivamente ogni singolo pacchetto installato in una distribuzione è un pacchetto a se stante per cui dovremmo in questo caso andare a fare anche questa traduzione la faremo in un attimo per mostrare come è semplice andare a realizzare una modifica al sistema quindi ritorniamo nella nostra interfaccia relativa alla gestione dei pacchetti e andiamo a cercare LibreOffice che è appunto il pacchetto che è stato installato come gestore di foglie di calcolo e di documenti facendo cerca avremo immediatamente i pacchetti installati con quest'icona verde i pacchetti non installati o disponibili con altre icone e dovremmo scegliere nell'ambito di questi vari pacchetti che sono a disposizione quello che riguarda la nostra lingua e il nostro sistema di help di aiuto andando più avanti vedremo infatti che ci sono i file di help scegliamo quello in italiano e cliccando con il pulsante di sinistro del mouse scegliamo installa immediatamente la distribuzione il software di installazione ci indicherà che mancano alcuni pacchetti oltre al menu oltre al pacchetto di help andremo ad installare quello relativo all'italiano che è proprio quello che ci serve lo selezioniamo facciamo semplicemente applica mi verrà chiesta di nuovo la conferma per l'installazione di questi due pacchetti e in un attimo avremo l'aggiornamento del sistema in questo caso l'operazione è molto rapida perché sono soltanto due pacchetti molto piccoli e sarà soprattutto molto totalmente automatica perfetto a questo punto la pagina viene rinfrescata e l'operazione è finita andiamo di nuovo sotto il nostro menu ufficio apriamo il nostro libro office e come vedete immediatamente le informazioni sono state aggiornate nella nostra lingua preferita allo stesso modo utilizzando il gestore dei pacchetti è possibile installare del nuovo software per cui andiamo a cercare il software da installare immaginiamo che vogliamo installare un nuovo browser andiamo a scegliere chromium che è la versione libera del ben più noto chrome realizzato da google facciamo la nostra ricerca e immediatamente abbiamo tutte le voci corrispondente a questa ricerca il common browser è esattamente la seconda voce clicchiamo con installa mi verrà confermato che è necessario installare il pacchetto relativo alla lingua più alcune componenti extra semplicemente clicco seleziona e successivamente applica ultima conferma e posso avviare l'installazione del nuovo software con pochissimi clic nel giro di qualche secondo il browser che è di circa 40-50 megabyte sarà scaricato da internet e sarà reso disponibile sulla mia distribuzione Linux Lite bene dopo qualche minuto l'installazione è completata ed il nuovo browser chromium è disponibile esattamente dove ci aspettiamo di trovarlo nel menu internet in effetti la nuova icona è disponibile e anche in italiano la clicchiamo e avviamo il nuovo browser il nuovo browser è già collegato ad internet perché abbiamo visto la macchina è connessa ad internet non vi ho fatto vedere la connessione ad internet e la configurazione di rete perché è totalmente automatica per cui a questo punto non ci resta che digitare un qualsiasi indirizzo e abbiamo immediatamente disponibile la navigazione e la possibilità di visitare i siti internet con il nuovo browser chromium è un browser libero e potremmo utilizzarlo in qualsiasi momento l'idea potrebbe essere quella di aggiungerlo al menu dei preferiti il menu dei preferiti è disponibile in cima alla menu di Linux Lite per fare questo quindi per aggiungerlo al menu dei preferiti è sufficiente sceglierlo cliccarlo con il pulsante destro del mouse e scegliere nel menu contestuale la voce aggiungi ai preferiti in un attimo i preferiti saranno aggiornati con le voci che noi più interessano e potremmo anche decidere di spostarlo in alto quindi farlo vedere per primo nel nostro menu in modo da averlo sempre e immediatamente disponibile quando l'installazione è completata e quando abbiamo aggiunto il browser al menu dei preferiti potremmo anche decidere di avere un accesso più rapido ai nostri programmi in questo caso scegliamo sempre come test il nostro programma appena installato il chromium browser per cui potrebbe essere interessante aggiungerlo a quest'area dove abbiamo una serie di programmi che possiamo avviare immediatamente per fare ciò è sufficiente cliccare quest'area con il pulsante destro del mouse scegliere pannello aggiungere nuovi elementi a questo pannello e scegliere avviatore cliccando add un nuovo avviatore sarà aggiunto alla fine della nostra barra e possiamo scegliere il tasto close dobbiamo adesso personalizzare questo avviatore pulsante destro del mouse proprietà aggiungiamo un nuovo elemento creiamo quindi un avviatore per un programma e cominciamo a scrivere il nome del programma come si vede già dalle prime lettere digitate il sistema propone dei suggerimenti cioè identifica i nostri desideri per cui proporrà di creare un avviatore per il chromium browser scegliendo quel consiglio l'avviatore verrà immediatamente reso disponibile con tutte le caratteristiche compilate compresa anche l'icona che viene scelta proprio l'icona del programma chromium browser scegliendo crea il nuovo avviatore verrà completato rimane però un'ultima cosa da fare quella di prendere questo avviatore e spostarlo nel posto più consono per le nostre applicazioni ad esempio all'inizio proprio del nostro menu quindi prendiamo con il pulsante clicchiamo con il pulsante destro scegliamo nel menu contestuale sposta e seguiamo esattamente la barretta rossa per poi confermare con il tasto sinistro a questo punto cliccando quest'icona il chromium browser è disponibile ed è avviabile immediatamente con un click giunti a questo punto l'installazione e la prova del nostro sistema operativo di linux lite è completata non ci resta che utilizzarlo abbiamo visto un sistema estremamente usabile configurabile con pochissimi click per cui non resta altro veramente che usarlo abbiamo già installato le prime applicazioni ne potremmo installare 45.000 perché la piattaforma prevede un gran numero di applicazioni tutte perfettamente installabili con pochissimi click inoltre è scaricabile ripeto dal sito internet linux lite os.com alla pagina download per questo breve tutorial che spero sia di utilità a coloro che vogliono avvicinarsi a questo nuovo sistema operativo è tutto e arrivederci alla prossima grazie a tutti